Non posso che essere soddisfatta come assessore della Liguria per il nostro riconoscimento ulteriore dell'ospedale IRCS Gaslini a livello internazionale. Si conferma che è un luogo anche per la didattica, per diffondere la conoscenza e la sapienza di chi opera in questo luogo, per formare anche personale medico impegnato in questo caso in un paese molto complesso dal punto di vista della restituzione ai cittadini dei diritti e poi anche molto importante la possibilità che IRCS Gaslini sia coinvolto nella seconda opinion, cioè nel consulto che viene fatto sulle quali prime valutazioni. Quindi esprimo grande soddisfazione e ringraziamento per lei e complimenti ovviamente a tutta la direzione strategica.